su tv sorrisi e canzoni in edicola questa settimana troverete le norme del concorso abbinato allo sceneggiato falcon crest in onda tutte le domeniche alle 20 e 30 su italia 1 troverete anche la foto del personaggio da ritagliare incollare sul paginone con l'albero genealogico di falcon crest centinaia di favolosi premi vi attendono il magnifico viaggio golden west dal programma l'america della tv a 12 giorni di sogno per due persone in california ove è ambientato il nostro sceneggiato 10 televisori a colori seleco modello dark con 99 canali e telecomando 400 confezioni tris di vini giacobazzi non perdete quindi questo numero di tv sorrisi e canzoni e seguite con attenzione tutte le puntate di falcon crest la storia più avvincente mai apparsa in tv in onda tutte le domeniche alle 20 e 30 su italia 1 comincini noi magni monicelli e scola sono i registi del film a episodi che andrà in onda tra qualche istante signore e signori buonanotte una divertente commedia all'italiana interpretata da una schiera di splendidi attori vittorio gasman marcello mastroianni ugo toniazzi minno manfredi adolfo cieli e senta berger il re della risata ci sono proprio tutti alle 22 30 un appassionante telefilm della serie agenzia rockford e alle 23 30 grand prix il nostro settimanale dedicato all'automobilismo sportivo vediamo ora insieme il film signore e signori buonanotte buona serata a tutti un lavoro da pazzi è il titolo dell'episodio che vedrete tra qualche istante della serie agenzia rockford amici dei motori stiamo per entrare nel fantastico mondo della formula 1 e dei bolidi da 300 all'ora con grand prix conducono andrea de adamic e bobo cambiaghi la nostra serata prosegue con un divertente telefilm della serie ore 17 quando suona la sirena amici sportivi di italia 1 è il momento del pugilato